Tu pacatamente non parlare, hai detto delle cose ad alta voce che non c'entrano niente. Io ti sto offendendo. Roberto, io non ho offeso. Quello che ti sto dicendo io è che se tu hai qualcosa, vieni da me e io e te ragioniamo senza bisogno che urli da laggiù. Ci parliamo, avviso avviso, le cose le risolviamo, le spieghiamo. Io penso di aver parlato in modo non amare senza offendere. Posso darti la mano? Mi dispiacere. Dammi la mano per favore perché per me sei una brava persona. Però cerca di capire un po' se tutte le volte i pezzi migliori vanno sempre via. Si fa fatica. Ma secondo te io non vorrei dire Cristiano Ronaldo, Benzema o qualcun altro. Posso farti la domanda? Ma il problema è Verdi che va via o è un'altra cosa? Che va via Verdi è giusto che vada via. Il problema secondo me è un altro. Non è che Verdi va via è un problema a Bologna. E' vedere un po' di più. Quello è un dato di fatto. Va bene ma è giusto che lui faccia vedere. Ma il problema è un altro. Io che vado sempre allo stadio, no? Abbiamo avuto quest'anno delle partite giocate un po' così. Abbiamo avuto delle partite di Crottoli. Poi le sai benissimo anche te. Il problema non è Simone Verdi che va via. Te lo dico da... Ma è chiaro. Quindi non ascoltare la gente. È colpa tua se Verdi va via. Ma è chiaro. E ti vorremmo vedere... Secondo te noi non vorremmo? Io non ho detto che tu non lo vuoi. No in generale. Ti sto dicendo quello che il problema non è Verdi che va via. Il problema vorremmo vedere. Vorremmo andare a vincere. E questo non è il problema Verdi. Io sono d'accordo con te. E noi non lo vogliamo. Perfetto. Ci siamo d'accordo. Vorremmo vedere che Verdi va via. Va via. Fa qua. Se vuoi andare via va via. Ma il problema a Bologna non è che Verdi... Stiamo mettendo il carro davanti. Bravo. Il problema non è che Verdi va via. Bravo. 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 Sì, Verdi.